Anticipazioni Beautiful, puntate americane, l'incredibile morte di Liam A Beautiful, nelle puntate andate in onda finora in Italia i telespettatori, hanno sempre visto Finn come un personaggio molto positivo. Nel corso delle puntate americane, questa cosa potrebbe cambiare. Il medico infatti se la prenderà con Liam, ritenendo che possa portargli via la sua Steffi. Finn diventerà molto pericoloso e potrebbe arrivare al punto di togliere la vita allo Spencer. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Beautiful, puntate americane, Finn minaccia Liam Nel corso delle puntate americane di Beautiful, la situazione tra Steffi e Finn è destinata a diventare particolarmente tesa, nel momento in cui il medico riprende ad avvicinarsi a sua madre Shayla. Durante il processo della donna, dopo l'infarto avuto da lei, Finn appare molto vicino alla sua madre biologica, la abbraccia e la sostiene. La cosa lascia Liam negativamente sorpreso, e lo riferisce subito a Steffi dicendole che non si può fidare di suo marito, se è di nuovo così vicino a Shayla. Steffi ne dubita, ma Liam mostra a Steffi un video registrato da lui stesso, in cui si vede Finn abbracciare Shayla e rivolgerle un sorriso incoraggiante. Steffi intuisce che forse Finn si sta avvicinando troppo alla sua madre biologica, e gli fa intendere che non vuole essere messa nuovamente in pericolo, come è successo ai tempi del tentato omicidio. Finn non fa fatica ad intuire che è stato Liam a mettere in guardia la giovane Forrester. Il medico va quindi dal suo rivale e gli intima di smetterla di provare a togliergli Steffi in quanto non ci riuscirà. Finn usa anche toni molto minacciosi con Liam, dicendogli che sta rischiando grosso a mettersi contro di lui. Liam comincia a preoccuparsi. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Liam potrebbe perdere la vita per mano di Finn, la premonizione di Kelly. A rendere la situazione più inquietante, è anche un sogno di Kelly che non sembra poter essere casuale. La bambina, infatti, sogna di essere senza suo papà Liam perché quest'ultimo ha perso la vita. Ovviamente, quando Kelly riferisce la cosa a Liam e Steffi, i suoi genitori la rassicurano dicendo che si è trattato soltanto di un brutto incubo, e che mamma e papà non la lasceranno mai. Una cosa del genere però non viene mai messa per caso in una sopopera come Beautiful. Tutto ha un senso nella trama, e questo ennesimo indizio potrebbe significare proprio che Liam sta per perdere la vita. Considerando le minacce di Finn, ed il fatto che il medico ritenga che Liam sia il suo principale ostacolo per la felicità con Steffi, potrebbe essere proprio lui a togliergli la vita. Se così fosse sarebbe un gran cambiamento per il personaggio, che però potrebbe aver ereditato, a questo punto, il suo lato malvagio proprio da Shayla. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi Finn arriverà a compiere questo gesto e che cosa succederà. A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.